Da settembre la bambina down con problemi di crisi epilettica e di morro d'oro avrà un insegnante di sostegno qualificata. Ad annunciarlo è stata la dirigente scolastica della scuola statale che frequenta la piccola nel comune Terramano. La preside nella giornata di ieri ha comunicato la notizia all'avvocato della famiglia Piero Colleluoli che da 10 anni segue il caso dell'alunna con difficoltà. Al caso si era interessato anche il ministro all'istruzione Marco Bussetti che ha disposto un'ispezione per capire come mai nonostante una sentenza del Tarrabruzzo del 2013 passato in giudicato non fosse stata assegnata alla piccola un'insegnante qualificata a tempo pieno in tutti questi anni. Solo l'insegnante qualificato può garantire in concreto il diritto allo studio di un minore che ha delle disabilità. Quindi comunque l'insegnante qualificato è quello che può colmare questa difficoltà del bambino che ha questi handicap e non un insegnante ordinario. L'insegnante ordinario essendo ordinario non ha quelle competenze specifiche che prevede la legge che può aiutare a fare dei miglioramenti a una persona che ha delle disabilità. Però c'è stato bisogno un po' di dare risalto mediatico perché ieri è intervenuto sulla questione anche il presidente della provincia di Teno e dopo il suo intervento c'è stato anche l'interessamento da parte del ministero. Questa questione nell'applicare questo diritto fondamentale del minore coinvolge tutte le istituzioni dall'apice del ministero fino all'ufficio regionale, provinciale e all'istituto comprensivo. Quindi ci siamo attivati presso tutte le sedi opportune e questo poi ha avuto anche un risalto mediatico perché chiaramente si tratta di una persona minorenne e si tratta di un diritto fondamentale che è quello dello studio che a maggior ragione deve essere garantito a una persona che purtroppo non per sua volontà ha delle disabilità, per rendere effettivo come tutti gli altri alunni questo diritto allo studio. E quindi diciamo che la minore essendo in una fase formativa fondamentale ha bisogno adesso di questo diritto e quindi non si possono aspettare sempre i diritti, cioè i tempi della giustizia e quindi magari un risalto mediatico anche non voluto perché negli anni noi non abbiamo mai coinvolto gli organi di stampa, ha permesso di rendere questo diritto fondamentale della bambina effettivo.